Una donna dorata dai suoi 108 metri di altezza osserva e protegge Milano Una volta era vietato costruire qualcosa che fosse più in alto della Madonnina Ma la legge dell'economia è più forte delle tradizioni e sono spuntati i grattacieli Perché Milano trascina l'Italia e deve guardare avanti Perché indietro fa paura Perché qui, solo 45 anni fa, era al Far West Nessuno si è sorpreso che a Milano esistessero traffici che ricordano le vicende di Chicago degli anni 20 e degli anni 30 Grazie a tutti